...che quindi aveva l'ambizione di arrivare al terzo. Allora, so che Ciacossozza adesso ci ascolta. Quindi quanta amarezza c'è per questo finale di stagione e quanta soddisfazione? Adesso è difficile parlare. È stata una stagione molto dura. Siamo arrivati a chiudere, non era una partita facile. Adesso è l'arte premuta al campione. Allora, avere la testa alta e la prossima stagione faremo. È quello che può diminuire. Il risultato alla fine è bugiardo perché gli ultimi due gol sono arrivati proprio alla fine con voi completamente sbilanciati. Quindi, grande equilibrio anche questa sera. Sì, abbiamo due squadre molto equilibrate. Quest'oggi era una partita di dettaglio, di sbaglio. Non ho avuto la fortuna di fare più volte noi e adesso niente che dire. A titolo personale, quanto sei contento di questa stagione? Perché comunque arrivavi un po' da outsider di questo campionato. Io non ho contento, non posso essere. Abbiamo perso il studente, non posso essere contento. È stato, come ho detto prima, è stato molto duro. Ho preso tante cose e adesso volevo vincere. Come la nuova, perdere una gara a silva, non sono contento. Devo capire adesso quello che dovevo sbagliare. Ma devo dare un parola per i giocatori che hanno stato molto bravi. Hanno fatto una bellissima stagione. Adesso è il momento di pensare dove ho sbagliato, per il prossimo anno. Poteremo tornare più forte. Gisio, prego. Ciao Tiago. Intanto hai ragione. Io capisco che sei molto deluso stasera perché hai perso il campionato e questo è giustissimo. Però non dimentichiamo che siete arrivati nelle prime otto d'Europa. Avete fatto una grande stagione in regular season. Avete vinto la Supercoppa contro di me. Questo comunque non va dimenticato. Il lavoro c'è stato, una squadra deve vincere. Secondo me stasera comunque la tua squadra fino alla fine è stata in partita. Sì, è vero. Ma tu sai, un po' come io, quando perde sembra questa sensazione che ha mancato qualcosa. È quello che sento in questo momento. Ma adesso devo riposare un po' la testa, pensare bene, vedere la partita, continuare a lavorare perché se è così, alla fine sono poi vincere uno. Abbiamo fatto cose molto bene, abbiamo altre cose che non sono state molto bene. ma quello che per me è il più importante è che non hanno niente da dire dei miei ragazzi, che hanno stato impressionanti. È quello che è molto importante per me. Loro hanno dato rispetto. Oggi un'altra volta abbiamo fatto, abbiamo giocato bene fino alla fine. Ha mancato un po' di fortuna, abbiamo un po' di azione, ma questo è il sport. Perché sì, un giorno di poi vincere, un giorno di poi perdere, adesso è l'alzare la testa e ti mando a lavorare. Grazie mille Sosa, comunque complimenti.